Allora, intanto cominciamo con il chiarire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di rappresentanti di associazioni o quello che vogliamo che prestano la loro opera gratuitamente. Non decidono niente, possono proporre, ma non decidono niente, lo fanno gratuitamente nel tempo libero. Di questo stiamo parlando, quindi niente interessi di nessun tipo. Continua la polemica relativa al Consiglio di quartiere partecipato per quanto riguarda San Domenico, Cormor, Villaggio del Sole, Rizzi e San Rocco con la nomina di Valdo Bettuzzi, prima votato come coordinatore e poi costretto a fare marcia indietro in quanto la sua associazione risulta in realtà essere una SRL. Lei ha detto che la società è un SRL. Io allora infatti le posso far vedere che questo non è vero. E' una società SSD a responsabilità limitata che è paragonabile a un'associazione. Perché? Adesso le faccio vedere anche l'articolo 2 dell'atto costitutivo. La società non ha scopo di lucro e ha oggetto alla pratica di attività sportive, dilettantistiche e recreative intese come mezzo di formazione psicofisica morale dell'uomo. Quindi non stiamo parlando di SRL. Come invece gli hanno spiegato al signor Moretti che è il presidente, il quale ha un'età, ha più di 80 anni e si è impressionato quando gli hanno detto venga qua a firmare immediatamente perché lei deve ritirare l'iscrizione all'albo dei rappresentanti del Consiglio di quartiere perché non poteva fare l'iscrizione. Tra le altre cose, in questo caso il Comune avrebbe potuto anche cassare l'iscrizione. Perché far venire il presidente a dichiarare che ritira l'iscrizione potevano dire lei non ha diritto e perciò cassiamo l'iscrizione.